Mi sento di entrare in questa chiesa chiedendo permesso, con la stessa delicatezza con cui il Signore sta accompagnando il mio desiderio di lasciarmi nuovamente toccare dall'incontro con Lui. Attendo di incontrarlo nei vostri volti, nelle storie che incrocerò. Domenico Battaglia è il nuovo arcivescovo di Napoli, ieri la prima messa solenne nel Duomo, alla presenza delle istituzioni cittadine. 58 anni, originario di Satriano, in provincia di Catanzaro, è stato ordinato viscovo nel 2016 nel Beneventano. La sua prima omiglia ha reso chiaro lo spirito con cui affronterà questo nuovo percorso. Il suo impegno sarà per i dimenticati, per chi ha perso tutto a causa della pandemia, della crisi economica e dei problemi endemici nel nostro territorio, come la criminalità organizzata. L'invito che ha fatto è stato proprio quello di non professare l'amore per gli altri solo in chiesa, noscere fuori dal tempio, guardare il mondo e dedicare la propria fede in un impegno concreto e reale. Solo partendo da chi è rimasto indietro potremo sperare di non lasciare da solo nessuno. E allora, coraggio, coraggio e buon cammino, buon viaggio a ciascuno di noi, a tutti noi. Amen. Grazie. 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 Grazie.